Eccoci qua, buonasera, i miei tecnici, i miei falegnami qui mi hanno fatto una nuova scenografia così mi posso muovere più agevolmente, nuovo studio e gli argomenti di sempre perché questa sera, oltre a Feltri, che è una presenza fissa nel nostro programma con Feltri preso a parole, parleremo di Pontida, siamo andati un po' dietro le quinte della manifestazione leghista, tra qualche tensione anche, vedremo, e poi il nostro dibattito politico vedo già gli ospiti da Roma e la saluto, buonasera all'onorevole Eleonora Cimbro, deputato di articolo 1 Movimento Democratico Progressista, buonasera, ben arrivata, buonasera a Stefano Zurlo, collega giornalista che ci accompagna in queste puntate qui da studio, a Simona Bordonali della Lega Nord, assessore regionale in Lombardia e Augusto Schiepati del Partito Democratico, con loro ci menteremo nel primo dibattito ma tutto deve andare con ordine, allora regia, vai con la sigla E allora ho messo un titolo che vuole essere anche una provocazione, il titolo è, come è scritto ben chiaramente sopra la mia testa, se ci tenessimo gentiloni, perché il primo ministro, in fondo mi date una bella immagine dei gentiloni, il primo ministro parla poco e lavora tanto, l'Italia sta andando meglio, vedete che sono serio mentre lo dico, l'Italia sta andando meglio perché cambiare, perché abbracciare Berlusconi, insomma si parla di Berlusconi, Grillo o tornare a Renzi, insomma questo qui a furia di non far niente o di non apparire fa, e allora ce lo teniamo, non ce lo teniamo, che roba è? Stefano vuoi condirla via un po' meglio? Ma lui ha un pregio, anzi ne ha due, il primo che è nato provvisorio e in Italia come sai quando tu nasci provvisorio, che stai su una gamba sola, poi rischi di durare più di quelli che nascono invece con propositi quinquennali e di legislatura e compagnia, lui è nato come sostituto al volo di Renzi, Renzi ha detto mettiamo un attimo lui a tappare il buco dopo il disastro che era successo a dicembre con il referendum, poi sta due mesi, sta tre mesi, noi abbiamo passato nei giornalisti mesi, anche tu naturalmente, a dire si va a votare a maggio, si vota giugno, si vota luglio, intanto è passato l'anno e ormai direi che si arriva tranquillamente a fine legislatura, anzi c'è un dibattito addirittura un po' surreale sul fatto se si va a votare a marzo, aprile, a maggio, cioè si continua a spostare in là la cosa. Lui, questo è un tratto, l'altro tratto che devo dire io ho apprezzato molto, conoscendolo anche abbastanza bene, che abbiamo avuto, come dire, nella genesi doveva essere un surrogatino di Renzi, in realtà Renzi ha messo lì l'anti Renzi, perché ha messo un personaggio del suo partito, un personaggio che dovrebbe fargli da stampella, un personaggio che non aveva alcuna ambizione sulla carta, ma che in realtà, stando zitto, come dicevi, non parlando, tenendo un profilo che è esattamente l'opposto di quello di Renzi, esattamente l'opposto, il tratto umano ha colpito. Dà anche l'impressione di uno che lavora, perché Renzi stava dalla mattina alla sera a conferenze stampa, manifestazioni, ovunque. Renzi stava sui social, tu vedi alle 5 di mattina che twittava, alle 8 era un'inaugurazione, alle 9 guidava la Ruspa come il Duce in tempi lontani, alle 12 faceva un'altra cosa, alle 13 prendeva l'aereo, poi cambiava il programma e poi annunciava 40 cose da fare in Italia, di cui naturalmente 39 non si sono fatte, la 40esima si è fatta. E quando cavolo lavorava? Questo almeno... Beh, naturalmente un presidente del Consiglio deve fare anche il gioco di squadra, l'immagine, tutto quello che vogliamo, però se lo dobbiamo dirla tutta, mentre Renzi ci ha rimbombato di promesse, di cambiamenti, di cose sparfallanti e rutilanti, di cui poi obiettivamente si è realizzato molto poco, qualcosa si è fatto, non voglio essere adesso per carità, qualcosa si è fatto, quest'altro non ha promesso niente, ha detto non so nemmeno se dura un anno, e le sue cose le sta facendo, pensiamo al tema degli sbarchi... Anche le nostre cose, i dati sul PIL, vediamo anche qualche articolo, i dati sul PIL sono positivi, questo è innegabile, o taroccano tutto per la campagna elettorale, non riesco... Io volevo dire due cose, i dati sul PIL e la vicenda dei migranti con gli sbarchi che per carità, c'è stato adesso una nuova fiammata... Sì, non cantare vittoria sugli sbarchi sono ripresi... Secondo me però il fatto, adesso non voglio avventurarmi in questione di geopolitica, ma siccome l'Italia ha deciso di invitare il generale Haftar, allora le milizie di Sabrata che sono anti Haftar, insomma la facciamo come un risico facile e facile... Tradotto la signora Maria perché io capisco... Vabbè, fazioni libiche in guerra tra di loro, visto che l'Italia si è sbilanciata in questi giorni con un invito a questo personaggio importante, a questo generale che controlla una parte della Libia, altre milizie hanno detto boh, tu Italia inviti questo e noi facciamo partire un po' di profughi, ma insomma il discorso lì è cambiato radicalmente e questo va dato atto alla coppia Gentiloni-Minniti. Allora, onorevole Cimbro, intanto lo spieghi non perché io non lo sappia, ma perché gli italiani non lo sanno, perché siete di fatto emarginati dalle trasmissioni politiche, che cos'è articolo 1 Movimento Democratico Progressista, perché c'è questa sorta di censura nei vostri confronti che non è bellina. Forse nella tua, di trasmissione. Anzi, sembra che siano fin troppo protagonisti. Allora, io non penso che ci sia chiusura, tant'è che ieri sera mi pare che ci fosse Bersani in una trasmissione importante, quindi immagino attraverso Bersani, attraverso D'Alema, attraverso tanti esponenti del nostro movimento, stiamo cercando di avere la nostra presenza mediatica. Noi siamo usciti dal Partito Democratico e io, insieme a tanti altri deputati, siamo usciti dal Partito Democratico anche per le ragioni che avete ribadito voi da poco rispetto a Matteo Renzi, non solo Premier, ma anche segretario del nostro partito. È venditore di fumo anche, chiedo? È venditore di fumo anche? È messo in campo una vera politica, diciamo, di sinistra? Era una domanda, è venditore di fumo anche? Non ho capito, mi scusi. Vi dava fastidio questa politica degli annunci del vendere un po' fumo? Ma indubbiamente, ma poi anche tutti i soldi pubblici sprecati per inseguire una politica dei bonus, del consenso immediato, senza mettere in campo invece una strategia complessiva per il nostro Paese, ci sono delle ragioni profonde per cui nasce articolo 1. La politica dei bonus che voi avete votato fino all'altro giorno, perché bisogna ricordare che questo governo lo state sostenendo. Guardi, io non voglio entrare in polemica con lei, perché forse lei non si ricorda che noi non abbiamo votato i provvedimenti più importanti del governo Renzi, dal Jobs Act alla riforma della scuola, alla legge elettorale e poi abbiamo sostenuto il no al referendum costituzionale. Ma non voglio entrare in polemica con lei, perché non mi interessa, quella è una stagione che è stata chiusa, io stavo rispondendo a una domanda che mi è stata posta, perché nasce articolo 1 e credo che la storia stia dando ragione a noi, infatti con un leader sicuramente diverso, un primo ministro diverso che sta recependo in parte anche molte delle sollecitazioni che arrivano da quel pezzo di sinistra che sta provando a descrivere un'alternativa. Si sta andando nella direzione giusta, ma la partita vera mi permetto di dire che sarà sulla legge di stabilità e sulla possibilità di portare a termine tutta una serie di provvedimenti che riguardano i diritti. Non legate, poi torno onorevole, vedo che non legate, volevo l'analisi della Bordonali, perché a questo punto anche con queste divisioni a sinistra, voi basta che aspettiate. Ma se ci tenessimo gentiloni, domanda interessante perché mi sembra che a meno che il governo che lo sta sostenendo, dal quale fa parte anche la signora che vediamo in diretta da Roma, lo sostiene il PD, lo sostiene la signora, quindi tutti coloro che sostenevano Renzi oggi sostengono ancora Gentiloni, quindi la maggioranza mi sembra che non sia cambiata. Gentiloni parla meno di Renzi, forse ha fatto qualcosa, dico forse perché stiamo ancora aspettando molte cose da Gentiloni. L'aspetto riguardante i migranti, ovviamente si è venuta a creare una situazione per la quale sono stati bloccati gli sbarchi, ovvero quello che la Lega Nord chiedeva da quattro anni, c'era stato continuamente ripetuto che era impossibile farlo, improvvisamente si è reso fattivo. Altre questioni legate ai migranti, Gentiloni e Minniti ci devono però spiegare coloro che sono oggi sul nostro territorio, ricordiamo che sono 600 mila, come li gestiamo, perché è vero che sono finiti gli sbarchi, però l'emergenza all'interno c'è ancora, anche perché voglio ricordare per dare alcuni dati che coloro che stanno ricevendo il diniego per la loro presenza sul territorio, comunque non sono stati rimandati al loro paese, quindi sono ancora sul nostro territorio. E' un'ultima provocazione, Gentiloni sta facendo tante cose positive, ci auguriamo, visto che lo stiamo attendendo da tempo, che vengano nominati dal PD, membri della commissione parlamentare per esaminare la situazione delle banche, che ancora oggi non è stata istituita e ci sono tante persone che stanno aspettando delle risposte concrete. Quindi Gentiloni ha fatto qualcosina, però quello che si attende oggi, il nostro... Intanto mi fa piacere che ci sia un giudizio complessivo positivo su Gentiloni. che ho appena fatto alcuni... A parte due esempi... E' meno peggio di me. No, no, però schiepati, il fatto che l'esponente della Lega abbia detto in modo gradevole le cose che ha detto... No, no, cioè, lei ha detto che fa tutto schifo, l'ha detto con... Gentilezza. Allora, se vuoi lo dico in modo più rozzo, e forse magari mi capisci. No. Se vuoi te lo dico. Gentiloni, di fatto, quello che sta facendo in questo periodo, dal fatto, da un certo punto di vista, gli sta piovendo anche dal cielo. Perché è vero che il PIL è aumentato, ma è anche vero che rispetto agli altri paesi europei siamo ancora al fanalino di coda. Il punto è che non gli è piovuto dal cielo. Cioè, i risultati che oggi in Italia sta raccogliendo... Il risultato di due anni, dei mille giorni del governo Renzi. Allora, non è di Gentiloni, ma è il risultato di Renzi. Di quelle riforme strutturali che sono state fatte in questo paese, perché con Renzi poi... Le riforme strutturali si fermano al governo Renzi. Penso all'articolo 18, penso al bonus degli 80 euro, alle riforme sulla scuola, insomma, è tutta una serie di provvedimenti di cui oggi stiamo raccogliendo i risultati positivi. A Gentiloni bisogna riconoscere il merito di aver governato questa fase con intelligenza. Dopo, come dire, un periodo abbastanza conflittuale che succedeva alla fase referendaria, ha avuto il conflitto di... Però la mia domanda è se gli italiani ci cascano, Bordonali. Ma io mi auguro di no. E li tagliano fuori. Ci cascano di nuovo su Gentiloni, io penso anche con i sondaggi che abbiamo in mano che la gente non si faccia prendere nuovamente per il naso, perché su Renzi l'hanno capita, Gentiloni, ribadisco, è sostenuto dalla stessa maggioranza, che ha litigato o ha fatto finta di litigare, non si capisce, perché ieri guardavo su Rai3 Renzi e sull'altro canale Bersani, se le dicevano, rispedivano, però di fatto governano ancora insieme, perché stanno sostenendo Gentiloni. Poi ci teniamo Gentiloni, mi sembra che ieri sera Bersani abbia detto che dipende dalla finanziaria, perché penso che il prossimo passaggio interessante per capire se ci teniamo Gentiloni sarà vedere le lacrime e sangue. Quello che dice Bersani è assolutamente indifferente alla politica. Onorevole Cimbro, prego, prego, onorevole Cimbro, intervenga. Non è indifferente mai alla politica, è una persona che vive sul rascurore. Bersani ha preso il mio partito e confermo che Bersani ha detto che la legge di stabilità sarà, come dire, il punto su cui noi decideremo se continuare a sostenere questa maggioranza di governo oppure no. Peraltro ricordo alla collega della Lega che in ogni caso questo governo dal 2013 è un governo delle larghe intese che ha coinvolto anche esponenti che sono partiti diciamo in questa diciassettesima legislatura nel centro-destra che hanno sostenuto questo governo perché di fatto nessuno ha avuto la maggioranza sia alla Camera che al Senato. Sì, è stato facendo una legge che prevede ancora per una volta un governo di larghe intese perché non volete permettere che quella che oggi l'opposizione vada a governare finalmente questo paese. Gli esponenti di questi partiti di centro hanno sostenuto un governo delle larghe, delle cosiddette larghe intese sicuramente a guida pivita che è principale, ma ha sostenuto da tante forze anche di centro-destra. Va bene, Zurlo dopo la pubblicità, dopo la pubblicità riportaci però Stefano come sai fare tu un po' di più coi piedi per terra. A tra poco. Il resto è lo stesso tuo quotidiano, il giornale a titolare Gentiloni porta bene all'Italia, il PIL non saliva così da sette anni, crescita superiore all'1% rispetto al primo trimestre 2016. L'impegno continua, che è un ciuccio questo qua? No, no, beh, è un dato di fatto, cioè il fatto che il PIL sia salito, per fortuna, dopo anni e anni di crisi stiamo risalendo. Quello che va detto, e volevo fare due obiezioni. No, ma io devo capire perché da casa non se ne accorgono. Appunto, stavo arrivando al PIL. Lo trovo gli sfigati io, ma non credo. Stavo arrivando esattamente a questo punto qua. Stavo arrivando a questo punto qua. Anzitutto, mi ha fatto una premessa che non è ideologica, ma è di, come dire, di un'estate intellettuale. Quelle immagini di gente che fruga tra la spazzatura, ci sono ancora, anche se il PIL è cresciuto, si moltiplicano. Anche se c'è Gentiloni, quelle immagini di gente che fruga tra la spazzatura sono la quotidianità. Non fatevi ingannare. No, no, ma infatti, no. Anzitutto, scusa, bisogna dire che una parte della ripresa consistente, ammesso che ci sia questa ripresa, la dobbiamo, non al governo, ma la dobbiamo alla congiuntura internazionale, all'azione di Draghi, al quantitative easing, a tutto quello che è successo con la Banca Europea. Noi stiamo sfruttando la scia che ci hanno creato le istituzioni internazionali, la ripresa americana, il mercato mondiale e compagnia. Anzi, da questo punto di vista si sta facendo troppo poco per modificare la legislazione che è sempre imbalsamata, ingessata, la tassazione alta, le cose che ci diciamo da quando ci conosciamo, anzi da prima di conoscerci. Ma soprattutto il problema è che lo 0,9, l'1% sono dati significativi, ci mancherebbe, però ne sta beneficiando una parte relativamente piccola del Paese. Noi abbiamo 5 milioni di poveri in situazione drammatica, abbiamo un'altra fascia di popolazione che non ce la fa, abbiamo un ceto medio, come abbiamo detto in questi anni, ormai lo dicono anche i sociologi, che non solo si è impoverito, ma è sparito e vive in una situazione di grande difficoltà. Al nord e figuriamoci com'è la situazione al sud. Ora, queste cose qua, quando noi facciamo i dibattiti, la ripresa è l'1, l'1 e 1, arriverà, ma al momento un sacco di gente non la vede, non la vede e non c'è. Non solo, la gente si incavola perché continua a sentire dire, guarda che le cose vanno meglio, guarda che le imprese vanno, le imprese vanno ma ci sono imprese che chiudono, i negozi chiudono. I imprenditori continuano a suicidarsi, ricordiamo. E le tasse a parole continuano a scendere, questa è una delle colpe principali di Renzi, perché Renzi si è impiccato alle proprie parole, ci ha detto che scendevano, 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 poi la gente parli con chiunque, è lì che l'argomento numero uno è le tasse, le cartelle di Equitalia, le rottamazioni, come mi è arrivata la cartella, questa è la realtà di milioni di persone. A fronte di questo, Gentiloni, alcune cose, parlavo dei migranti, le ha fatte, ma avendo una maggioranza che è ballerina, avendo comunque un programma limitato, abbiamo parlato prima in positivo, dobbiamo anche dire i limiti, non è che ha varato queste grandi riforme, è stato lì a guidare col pilota automatico, mettendo la macchina, cercando di sfruttare questa ripresina che a livello di grandi numeri c'è e che ripeto, a livello della popolazione non si sente, tant'è che una delle misure che è stata fatta ma largamente, largamente insufficiente è quella dell'aiuto ai poveri, di cui abbiamo parlato, perché se tu metti un miliardo ma c'è bisogno di 5, 6, 7 miliardi, ci sono miliardi, basta vedere a Milano... Sappiamo che quella riforma va a regime in tre anni, no? Sì, ma voglio dire, se tu ti fai un giro a Milano o a Roma e ti vai a vedere dove danno il cibo, tu vedi delle code ormai di 500, 600, 700 metri di gente che aspetta di mangiare, questa è la situazione, non parliamo di prima delle case... Onorevole Cimbro, lei diceva prima, insomma faceva capire una contrarietà vostra, voi di sinistra, perché rappresentate l'anima di sinistra di questa coalizione, una contrarietà vostra a questo sistema dei bonus, anche questo bonus che viene dato ai più poveri, che si chiama, se non sbaglio, reddito di inclusione, anche questo lo vedete come una cosa insufficiente, una manovra elettorale, una mancia che è destinata a pochi... Perché siete contrari, se lo siete? 15 depositata dal mio capogruppo, l'onorevole Laforgia, che interviene appunto con il reddito di inclusione, 2015. Noi abbiamo provato, quando eravamo all'interno del Partito Democratico, a proporre delle misure che fossero appunto lungimiranti, tant'è che giustamente anche il collega Schieppati diceva che questa misura entrerà in vigore pienamente in tre anni, ma se si fosse iniziato nel 2015, oggi staremo discutendo di altro, per cui che ci sono 5 milioni di italiani in povertà assoluta, lo sappiamo da anni, allora forse mettere in campo delle politiche negli anni precedenti avrebbe aiutato oggi ad avere ovviamente una situazione completamente diversa, mentre si è preferito sperperare 10 miliardi per dare bonza agli 80 e... Lei sta parlando come se fosse stata l'opposizione in tutti questi anni. Noi non le abbiamo votate, comunque... Lei non è stata l'opposizione, lei ha sempre sostenuto questi governi e li sta ancora sostenendo. Urlata, che ha come obiettivo quello di avere i voti nell'immediato. Non prendiamo in giro chi ci guarda da casa, diciamo chiaramente, chi è in maggioranza e al governo, chi ha fatto le cose e chi le ha contestate. Non basta dire alziamo i muri o facciamo la forza con la Ligia per fermare l'immigrazione. Litigate ma siete insieme, che come tutta la sinistra, se non arriva dalla Ligia, arriva anche da altri paesi, avete sostenuto Gentiloni e probabilmente vi presenterete ancora insieme, perché sapete che se non vi presenterete insieme perderete di nuovo... La sinistra è stata Berlusconi, non ce l'ha avuta Renzi e noi crediamo invece che una sinistra vera in questo paese possa averla. Ma voi vi siete presentati insieme a tutte le ultime elezioni amministrative in tutti i comuni dove avete perso in maggior parte dei comuni, siete sempre stati insieme, non prendiamo in giro i cittadini facendo credere che da una parte c'è la sinistra buona e dall'altra c'è la sinistra cattiva. ha vinto perché ha aumentato i voti, il centrodestra ha vinto per esempio anche a Sesto San Giovanni perché il nostro popolo, il popolo di sinistra non è andato a votare. Scusami, questa è una grande bugia, questa è una grande bugia, è una grande bugia. Se non lo fosse una cosa vera, a fronte di un PD che continua a essere dato nei sondaggi al 28%, per capirci, tre punti in più di quelli che prese Bersani alle elezioni, malgrado il partito fosse tutto unito, MDP oggi sarebbe esplosa nei sondaggi. Invece tutti i sondaggi ci raccontano che sono costretti a rincorrere Pisapia perché senza una faccia nuova presentabile, se MDP e Bersani e D'Alema faticano a raggiungere il 3%. A Sesto San Giovanni perdiamo, a Sesto San Giovanni perdiamo proprio perché quel comune era governato dalla sinistra e che sui temi dell'immigrazione e della moschea non ha dato risposta, perdiamo quando la sinistra diventa ideologica, scrivi MDP e su temi importanti sentiti dai cittadini come quello della moschea, come quelli degli immigrati, si fa finta di nulla. Quando la sinistra si comporta così come a Sesto, grazie alla sinistra, MDP e alla... tutti sappiamo che Sesto non governavano i renziani ma governavano la parte di sinistra del partito, abbiamo perso sulla moschea, abbiamo perso sulla moschea, abbiamo perso sui temi della sicurezza, abbiamo perso su quei temi su cui voi oggi contestate Miniti, mentre Miniti interviene, ci viene riconosciuto come un ministro che finalmente interviene in maniera efficace sul tema dell'immigrazione, voi lo contestate, esattamente, per quelle ragioni per cui poi si perde Sesto, si perde Promo e si è perse le elezioni, perché le elezioni le abbiamo perse su quel tema, il tema della sicurezza, su quel tema, capisco la sua analisi ma la soluzione è... Secondo me le elezioni le abbiamo perse sul tema del lavoro. Ecco, però seguendo il ragionamento, onorevole Cimbro, seguendo il ragionamento di Schiepati mi viene da dire che se è vero che le elezioni, è un po' è vero, si perdono sui temi dell'immigrazione, non è che uno deve buttare via tutta la parte a sinistra del suo cuore per fare la fotocopia sbiadita della Lega, no voi state, cioè lei parla come, allora se lei si ascoltasse, e so che le piace sentirsi, perché poi a volte non si fa neanche interrompere, però se lei si ascoltasse e tornasse indietro con la memoria, sentirebbe che lei parla come Salvini di 3-4 anni fa, cioè praticamente state facendo la fotocopia della Lega e state buttando via tutto quel popolo che a sinistra vi vota perché ha dei valori di un certo tipo, condivisibili o meno che siano, però quelli di sinistra vi votano, vi votavano perché hanno dei valori e voi li state buttando via. Perché scusami, il valore della sicurezza, del garantire la sicurezza ai nostri cittadini non è un valore di sinistra. Allora glielo spiega la cimbro, perché io faccio il moderatore. Eh ma se lo spiega la cimbro, poi sappiamo come va a finire, perdiamo come è stesso. No, glielo spiega la cimbro, però mi scusi, se siete la sinistra fate la sinistra. Io penso che la sicurezza sia un tema, certo, io penso che la sicurezza sia un tema importante, ma per noi è prioritario il tema dell'integrazione. Non c'è sicurezza se non c'è integrazione, tant'è che stavo cercando di, prima di spiegare, che chiuse le rotte dalla Libia, gli immigrati arrivano da altre parti, perché il problema non è chiudere le frontiere, ma quello di aiutare attraverso la cooperazione internazionale questi paesi a uscire dalla povertà, dalla fama e dalla guerra. Infatti, ferma un attimo. Questa è la strada maestra per chi si riconosce nei valori di sinistra. Per chi invece si riconosce nei valori di destra, basta tirare su un muro. No, visto che la parola non è scusa, scusami, ci sono i dati, noi chiudiamo le entrate, riduciamo le entrate perché oggi c'è un problema anche di sicurezza, di tenuta, e abbiamo aumentato i soldi per la cooperazione internazionale. Faccio un'osservazione. Un film al festival di Venezia, all'ordine delle cose che dimostra che non ci sono il rispetto dei diritti umani. Un attimo, schiepati, però un partito è una fabbrica di idee, non è una fabbrica, quindi un'azienda che riconverte la produzione a seconda delle richieste del mercato. Se siete quella roba lì, dovete fare quella roba lì, perché cambiate pelle? Ma non abbiamo cambiato pelle, non abbiamo cambiato te. Io mi ricordo, eravamo qua, sullo stesso argomento, io e te, non tanti mesi fa, dicevamo esattamente, tu dicevi le cose che dico io, come è impossibile, anche tu dicevi che scappavano dalle guerre, dovevamo farli arrivare tutti, gli unici che hanno mantenuto la stessa posizione, quello che abbiamo detto, quattro anni fa, 2013, l'anno in cui è sbarcato il siriano che ha fatto l'attentato a Londra, cioè questo è sbarcato, è venuto con i barconi in Italia, noi dicevamo queste cose, noi dicevamo attenzione alle ONG, quando abbiamo detto attenzione alle ONG, e mi ricordo lo stesso procuratore nel momento in cui ha aperto l'inchiesta, cioè tutti addosso, voi siete contro le persone che salvano gli uomini e le donne in mare, muoiono i bambini e voi speculate su queste cose. Ma perché voi speculate su queste cose? No, non è vero, voi speculate sulle paure, perché se avete cambiato idea, perché avete perso le lezioni amministrative, governiamo i processi, che è una cosa diversa, non abbiamo cambiato idea, abbiamo governato, i processi si possono anche modificare, ho capito, li avete modificati come chiedevamo noi di modificarli, ma con una differenza sostanziale, che noi non mi ha detto no perché le persone muoiono in mare, le morti in mare sono diminuite, sono azzerati le morti in mare, no gli sciacalli eravate voi, perché voi andandoli a prendere con tutto quello che è successo con l'ONG, morivano in mare, adesso non muoiono più. Va bene, possiamo fermare la gara a chi è più scemo, perché ho la pubblicità adesso? No, a chi ha ragione, non a chi è più scemo. Va bene. Se no vince, perde i soldi. Se no vince. Non posso perché è una donna e quindi... Vince schiepati, battutona, non ho l'esclusiva delle frecciatine schiepati, che comunque incassa anche con un certo stile. Torniamo dopo la pubblicità, va? A tra poco. E allora, dai che tra poco devo andare dietro le quinte a Pontida, farvi vedere insomma quale spirito si respirava tra i militanti della Lega e poi correre da feltri. E a proposito, vi volevo ricordare un'altra roba che non c'entra niente, c'entra con la TV però, perché dal 3 di ottobre partirà un nuovo programma condotto da me tutti i martedì e tutti i giovedì in seconda serata, che si chiama Siamo italiani, vediamolo a pieno schermo questo titolo, Siamo italiani nel bene e anche nel male, perché vi racconteremo l'Italia che funziona, per quel poco magari che per qualcuno può funzionare l'Italia, ma anche l'Italia che non funziona. Insomma, una via di mezzo tra ottimisti e pessimisti, perché a seminare pessimismo si affloscia il paese o no. Bordonali, però a sentire voi sembra che tutto vada male. Adesso arrivate voi con la bacchetta magica, c'eravate già prima e ci riproponiamo... No, tutto non va male. Io ho riconosciuto che alcune cose sono state fatte da gentiloni. Tutto non va male. In Lombardia, in Veneto, dove governiamo noi, abbiamo degli ottimi governatori. E va bene, ma potrebbe andare anche meglio dopo il 22 ottobre e mi limito qui. No, non dico che tutto vada male. Sicuramente rispetto a prima ho riconosciuto che sono stati bloccati gli sbarchi. Quello che ho ribadito è che poteva essere fatto anche prima, meglio ora. Ora mi auguro che Minite e Gentiloni cerchino di gestire nel migliore dei modi la presenza di chi è oggi sul nostro territorio, che è un problema esplosivo. Perché tutto non va male? Perché sicuramente tutto si può migliorare. Vedremo la finanziaria in che direzione andrà. Sicuramente sarà di lacrime e sangue, visto quello che ci impone l'Europa. Ma noi siamo a Roma per proporre. Noi siamo a Roma non solo per dire no, ma anche per dare la possibilità a chi ci governa di raccogliere le nostre idee. Generalmente con Renzi e anche ora con Gentiloni, tutto quello che viene proposto da noi, perché proposte di legge ne abbiamo fatte, non siamo stati solo a guardare, non è stato raccolto. Alcune questioni sui vaccini, sono stati accolti i nostri emendamenti che hanno permesso di mettere dei ripari a una legge che ha creato e sta creando parecchi problemi sul territorio. Quindi tutto non va male, ma sicuramente per il pensionato, per la signora che abbiamo visto nelle immagini, che va a raccogliere nell'immondizia la cena per la sera, bisogna dare delle risposte concrete. Non solo per loro, qui io do una responsabilità un po' storica dell'Italia, ma insomma i governi di centro-sinistra, e qui ci sono sia Schiepati che la Cimbro chiamati in causa, negli ultimi anni hanno perso una grande occasione che era quella di riformare veramente, come Renzi l'ha annunciato, non si sa quante volte, con la spending review e tutto il resto. Cos'è successo? È successo che invece si sono fatte manovre in deficit, mercanteggiando con l'Europa a farmi fare 5 miliardi in più, 4 miliardi in più di deficit, e la stessa cosa sta succedendo in questa finanziaria che andiamo a fare, dove, parliamoci chiaro, gran parte dei soldi dovranno essere utilizzati per tappare, per fermare, per bloccare l'aumento dell'IVA, perché se no a hora di ridurre le tasse ci aumentava l'IVA di altri due punti o tre punti o un punto, vedremo. Ma comunque per fermare l'IVA, che sarebbe un disastro epocale, si utilizzeranno quasi tutti i soldi, diciamo, che ci sono. E quel poco in più che si riesce ad avere è il mercanteggiamento con l'Europa, per cui da Europa facci fare 3 miliardi, 4 miliardi in più in deficit, e quei soldi verranno utilizzati le briciole, un po' per i poveri di cui parlavamo prima. Sì, però quei soldi vengono dagli nostri stipendi, non è che li mette... Ma il problema qual è, e qui chiamo in causa anche l'onorevole Cimbro, il problema è che in questi anni il governo di centrosinistra aveva detto, noi riformiamo lo Stato, facciamo la spending review, tagliamo le tasse, tagliamo tutti i privilegi, tagliamo le storture, il sistema non funziona, siamo arrivati a che dopo due anni, tre anni di questi bei discorsi non si è tagliato praticamente niente. No, si è tagliato gli enti locali, attenzione, gli enti locali che danno le risposte a qualità. Non si è tagliato niente, l'unica cosa che si sa fare è andare in Europa, questo si fa col cappello in mano a dire, non solo non diminuiscono le tasse, ma rischiano di aumentare, Europa ci vuole sostenere, che se no vincono i populisti, se no vince Grillo, se no vince quello, dacci 3 miliardi, dacci 4 miliardi di deficit in più, questo è quello che si sta facendo, che fosse Renzi, che fosse Gentiloni, che fosse Letta, poco... Onorevole Cimbro, prego una replica per lei. Sì, aggiungo che la cosa più grave è che a fronte anche di questa richiesta di maggiore flessibilità in Europa, e questa è una responsabilità precisa di Matteo Renzi che non ha mai smentito a seguito di quanto detto della Bonino, si è detto benissimo, noi accogliamo tutti i migranti e quindi facendo anche un'inversione di rotta rispetto al lavoro che si sta facendo nel Mediterraneo, quindi si è doppiamente sbagliato rispetto all'interlocuzione anche con l'Europa. Quello che noi vogliamo rimettere al centro dell'agenda, e lo faremo presentando non solo emendamenti, ma anche tutta una serie di provvedimenti in aula nei prossimi mesi, è offrire al Paese un pacchetto strutturale di interventi che facciano ripartire l'economia e soprattutto il lavoro reale. Però è bruttarello a ridosso di una campagna elettorale, onorevole, mi permetta, è bruttarello ripartire dalla fine della legislatura perché si chiama campagna elettorale, è bruttarello così, cioè ha ragione lei, non è stato fatto prima. Scusi, allora siccome noi andiamo, attualmente abbiamo un sistema proporzionale e siccome noi abbiamo provato in tutti questi anni dall'interno, anche non votando provvedimenti importanti come il Jobs Act a dare dei segnali e abbiamo deciso ovviamente di costituire un nuovo partito davvero di sinistra, è evidente che nei prossimi mesi ciascuno, poiché c'è un sistema proporzionale, dovrà presentarsi agli elettori per avere consenso sulla base di un pacchetto per essere molto chiari, io ho chiamato in causa tutto il vecchio PD, anzi ancora prima del PD, perché la politica che avete fatto, che è quella appunto di annunci, annunci, annunci e qualche misura estemporanea di bonus e controbonus, non ha toccato il cuore nevragico del problema della pubblica amministrazione che non funziona, tant'è che il referendum che si va a fare in Lombardia, perché la Lombardia c'ha 54 miliardi di attiva, sono d'accordo con lei e no, ho capito, però lei non è che può dire, scusa, non è che lei può dire solo sono d'accordo con lei, siamo tutti d'accordo, allora che al governo chi c'era, un fiammifero non ho capito chi c'era il governo, c'eravate anche voi, quando si trattava di scegliere che cosa tagliare e tagliare, non lo si è fatto che fosse la prefettura, che fosse l'ospedale sono uscita insieme a tanti altri dal partito democratico, proprio perché le misure messe in campo da Matteo Renzi non sono state assolutamente adeguate rispetto ai problemi che si stavano affrontando, e come ricordava prima la collega della Lega, anche noi abbiamo presentato proposte di legge, tant'è che il reddito di inclusione è stato presentato come primo deputato dal collega, la Forgia attualmente è capogruppo di articolo 1, quindi stiamo parlando di questo, stiamo parlando di quali sono le misure da mettere in campo, siccome mancano dai 6 agli 8 mesi alla fine della legislatura, è evidente che stiamo parlando del futuro e non del passato. Si può parlare semplice? Io sono d'accordo con il ragionamento che veniva fatto adesso dare nella giornata. Questo governo era partito con un'idea che era quella di rinnovare lo Stato, di modificare, di semplificare l'amministrazione, di tagliare l'amministrazione pubblica, di ridurre i costi. E non ce l'ha fatta, quindi siete falliti. Siamo arrivati fino al 4 di dicembre dove abbiamo perso un referendum. Da quel momento in poi... Non è da quel momento, scusa, perché questa è la... Abbiamo iniziato. Sì, va bene, questa è la semplificazione, perché in realtà tu sai benissimo che tutti i commissari che erano stati messi per tagliare, ce ne sono quanti ne vuoi, Cottarelli, Giarda, dobbiamo andare indietro, sono stati tagliati loro, non i tagli che dovevano fare loro. Tu sai che per esempio la legge Madia, che è partita per essere molto più severa... I disabili, i disabili che sono in difficoltà, le famiglie numerose, le famiglie del sud, i disoccupati, il ceto medio... Facciamo un esempio, la legge sul pubblico impiego, non siamo riusciti a chiudere la riforma, perché abbiamo un partito come MDP che da sinistra ci ha impedito di intervenire sulla pubblica amministrazione di fare i tagli. Dico l'ultima cosa, poi mi taccio, io lo so che è difficile governare, poi so che c'è non solo MDP, ma c'è il TAR, c'è la Corte Costituzionale, ci sono i giudici, ci sono tante cose, però io vi invito, perché non avevo le cimbre fino a prova contraria, un anno fa era ancora nel tuo partito, credo, non credo che sia fuggita la critichella di nascosto prima. E' ancora in maggioranza. Allora vi invito a vedere la caterva di annunci che il premio Renzi ha fatto di tagli, cambiamenti e di cose che dovevano fare. Ce li ricordiamo ancora, eravamo tutti affascinati. Non si è fatto praticamente nulla. Prendiamo un esempio solo, il job act... Scusa, siamo col cappello in mano in Europa a dire tagliami 3 miliardi, siamo a cercare di non far aumentare l'IVA, questo siamo, e siamo alle briciole, purtroppo questa è la realtà di cui ci dobbiamo accontentare oggi, sfruttando il vento della ripresa che arriva dall'America, da Draghi, della Banca d'Europa, questa è la realtà. Posso dire, facciamo un esempio, il job act, no? Sì, però questa sera mi sembrate lo specchio dell'Italia, tutti parlano e nessuno fa un cazzo. No, pubblicità. Allora, sono un po' deluso perché mi annoia sta roba, sto dibattito, vorrei parlare un po' di cose concrete, ma non so come fare, perché poi dipende da voi. Onorevole Cimbro, lei domani va al governo, le prime tre cose che fa per gli italiani. Uno, due, tre. Allora, innanzitutto una nuova riforma della scuola, perché la 107 è stato un disastro e siccome noi riteniamo che si debba ripartire dal futuro e dai giovani, dobbiamo assolutamente modificare questa legge. La seconda cosa che fa? Secondo, un piano di investimenti statali pubblici per far ripartire l'economia nel nostro paese. I soldi dove li prendono? Perché noi non abbiamo bisogno di, come dire, abbassare sicuramente anche qualcuno fiscale, ma abbiamo soprattutto bisogno di avere... Ma i soldi per gli investimenti pubblici ve li porta a Babbo Natale. Per fare ripartire il lavoro reale. Perché abbiamo visto che quando all'impresa è stata data la possibilità di pagare meno tasse, hanno assunto, ma subito dopo, quando poi le tasse sono ritornate al livello precedente, ci hanno lasciato a casa le persone. La terza cosa! La terza cosa è un piano di emergenza sistematico per l'ambiente, perché riteniamo, come ha detto anche benissimo Veltroni in un'intervista di questi giorni, che sull'ambiente il Partito Democratico in questi anni ha fatto davvero... Posso dirle una cosa antipatica? ...e tutto il piano contro il dissesto idrogeologico che è stato messo in avanti, in piedi non funziona assolutamente. Posso dirle una cosa? Quindi queste tre cose, lavoro, scuola e ambiente. Posso farle un'osservazione antipatica, poi la prenda come vuole, ma con questi tre punti non è che affascinino le folle. Cioè sì, sono cose importanti, però... Non è quello che chiede la terza. Ma io non so. Voglio sentirle. Se per lei il lavoro, la scuola e l'ambiente non sono cose importanti... Sì, ma ad esempio... Ma io penso che il lavoro sia la priorità assoluta per il nostro Paese. Noi ci chiamiamo articolo 1 perché, appunto, richiamiamo il primo articolo della Costituzione l'importanza della centralità del lavoro che dà dignità alle persone. Visto che abbiamo parlato... La scuola è perché noi crediamo nel futuro di questo Paese... Sì, no, no, chiaro, lo so! Lo so! A fronte di 180.000 immigrati che sono arrivati nel 2016, 200.000 italiani, soprattutto giovani, se ne sono andati dal nostro Paese. Bisogna farsi delle domande sul pacchetto, però. Questo è un dato che dovrebbe far riflettere tutti, altro che invasione. Ma io vorrei sapere, Moremo, scusi... Siamo un Paese che invecchia. I nostri giovani scappano perché non c'è lavoro. Ma c'è la base di voi al governo. Di chi è la colpa? No, un attimo, volevo sapere... Ascolti Zurlo almeno! No, volevo sapere su due punti che per me sono qualificanti. Ma io vorrei sapere anche la collega della Lega che cosa... Aspetta, mi faccia fare le domande a lei, poi puoi fare le domande che vuole alla Lega. Volevo sapere, uno, cosa farebbe, cosa farà se va al governo con questa storia degli sbarchi della Libia. Cioè, tenere il blocco, le ONG reggimentate. E due, vorrei sapere sulla tassazione, perché lei ha detto giustamente meno tasse, questo vuol dire via la patrimoniale, via qualunque ipotesi di patrimoniale, via aumento della tassazione e riduzione delle tasse, o vuol dire restituire la patrimoniale come invece viene detto ad alcuni dei suoi colleghi di partito? In un minuto. Allora, innanzitutto per quanto concerne la politica sulla Libia, noi non siamo d'accordo a mantenere questo blocco e soprattutto a mantenere le persone nei campi di concentramento in Libia senza rispetto dei diritti umani. E quindi siamo invece per continuare a proporre un piano di sviluppo soprattutto del Nord Africa e dell'Africa. Spero, guardi, che siamo d'accordo tutti, anche io sono d'accordo. Va bene, va bene, va bene, onorevole. Perché crediamo che la cooperazione sia la strada destra. Va bene, onorevole. E anche la battaglia. Le tre cose che fa la Lega. Io poi vi permetto di criticare perché siccome volete anche il mio... Ah, però non ho finito di rispondere anche sulla tassazione. No, voglio sapere se è per la patrimoniale nostra. Le tre cose della Lega. Onorevole, devo correre. Le tre cose della Lega. Lo sta continuando a ribadire Matteo Salvini. Prima di tutto abolizione della legge Fornero. Perché se c'è la necessità di bloccare ovviamente gli sbarchi ma soprattutto rispedire a casa loro chi non ha diritto di restare sul nostro territorio. Terza cosa, sono tante. C'è la flat tax, c'è la necessità di abolire gli studi di settore per i lavori autonomi. Insomma, una rivoluzione. I studi di settore li sento da anni. E si torna sempre buoni. Schiepati le tre cose. No, no, è fondamentale. Matteo, se dovessi seguire e rimanere in linea sulle proposte di MD1 direi che regaliamo a un italiano 1000 euro al mese e aumentiamo la spesa pubblica fino al 170%. Tagliare i costi, ridurre le tasse. Ridurre le tasse sull'impresa. Come? Perché le imprese... No, è seri, se io ti dico, noi applichiamo la flat tax, tu spiegami come. Ma io la flat tax, riduciamo la tasse. Non è che non avete potuto spiegare, avete perso tempo a parlare di cagate. Mentre le domande che vi venivano fatte erano concrete. Adesso siete belli concreti. Lo so, onorevole, io parlo così. Onorevole Cimbro, mi dispiace. Lo so che la faccio sorridere, ma io parlo così perché mi devo adeguare a Schiepati che capisce solo questo tipo di linguaggio. Vai, Schiepati. No, ma anch'io poi tu lo sai che per venire in trasmissione ho fatto un corso, no? Sì. Soprattutto di puntualità che mi arrivi sempre con 20 minuti di ritardo. Muoviti, dai, che devo chiudere. Che coraggio. Ma poi viene da ridere. No, noi dobbiamo soltanto ripigliare il filo delle riforme che avevamo iniziato a fare con noi. E hai voglia di questo filo? Si deve essere aggrovigliato parecchio. Sto filo l'abbiamo perso. Per aver avuto per 5 anni una cosa interna da parte della parte della conservazione. Uscite dal PD e venite da noi. Augusto, ti aspettiamo. Se voi andate al governo, aumentate le tasse, fate la patrimoniale e aprite le frontiere a tutti. Queste sono le tre riforme che fa MDP. Cioè quello che voi avete fatto per 5 anni. Cioè quello che il PD paga di più, chi ha di meno paga di meno. La progressività è un principio, un valore di sinistra. Cioè che non si schiepati a prezzi che almeno da una parte la vogliono. Le ha detto venga con noi l'onorevole Cimbro, almeno un posto dove la vogliono c'è. La conosco da quando era segretaria di Circolo a Bollate, quindi la conosco da tanti anni. L'ho vista crescere. Sì, ma non è l'onorevole Cimbro che nasconde il suo passato. Siete voi che siete cambiati rispetto a quello che eravate. No, sono voi che siete cambiati perché dicono che il PD paga di più. Va bene, dai. Va bene, va bene, va bene. Va bene, io ringrazio l'onorevole Cimbro e l'onora Cimbro, deputato dell'articolo 1 Movimento Democratico e Progressista. Grazie, buonasera. Ringrazio persino Augusto Schiepati del PD. La prossima. La ringrazio persino a te per l'invito. Benissimo, quando abbiamo finito posso andare avanti. Grazie a Simona Bordonali della Lega Nord. Grazie. È ben ripartita perché se ne sta andando. No, anzi, vuole rimanere perché dopo parlo di Pontida. Allora magari la conservo qui nei nostri studi, insieme ai cimeli più cari. Saluto Stefano Zurlo, collega del giornale. Alla prossima Stefano. Grazie a tutti voi. Torniamo dopo la pubblicità. Restate bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti.